Siamo la prima generale di relazioni, credi, primari e città del concorso generale in divorzio. Terza classificata, trasmessa, per la russa, Alessandra Bergoglione. Siamo la seconda classificata, signori, per la russa, Bergoglione. Prima classificata, first place, per la russa, gentile, Alessandra. Prima classificata, la prima classificata, sarà consegnata da Massimo Zecchio, signori della città di Canna. Il rego per la seconda classificata, sarà consegnata da Riccardo a Canna, presente nella federazione di classificata. Il rego per la terza classificata, sarà consegnata da Sabina Cotto, legata al suono della famiglia di Canna. Grazie. 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 Il sesto posto per l'Italia Federita Pekko Settimo posto per la Russia Anna Ducchionina Il quattro posto per l'Italia Alessia Marchetto Il quattro posto per l'Italia Valeria Scania Il quattro posto per l'Italia logico